ok il video registrato lo possiamo dare allora io sono luce oggi 5 novembre io avevo già ricevuto una telefonata però che sarebbe venuto a prendere i motori io più al telefono ho detto guarda che io sono una donna viva non mi hanno preso sul serio poi gentilmente sono 1 2 3 4 franco massimiliano Gabriele Sandrino sono venuti la gioia immensa la gratitudine e loro sono venuti hanno suonato dove il motorino loro sono usciti anche fuori quelli che sono venuti per darmi sostegno ho detto un momento prima dobbiamo chiarire prima di suonare però hanno fatto tante foto è vero prima di suonare hanno fatto le foto perché io appeso un cartello questo lo faccio spiegare a massimiliano hanno fatto le foto perché abbiamo appeso un cartello che è questo qua adesso l'inquadro che è questo qui è vietato l'ingresso però si vede al contrario adesso qui ok e per questo cartello qui ci sono fermati a lungo a lungo a fare foto 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 poi hanno suonato ah buongiorno siamo venuti a prendere il motorino ho detto va bene chiariamo chi vi manda e chi cercate hanno fatto vedere le carte e c'era il mio nome scritto in maiuscolo ho detto questa non sono io ah va bene lui ha risposto ve lo ricordate? sì un po' offesa ah vabbè ma noi cerchiamo ha insistito ma noi cerchiamo il motorino poi cos'è oppure potete aggiungere voi che non mi ricordo cosa no noi cerchiamo solo il motorino noi cerchiamo solo il motorino ho detto ma un momento esatto io poi ho detto no un momento io non posso darvi informazioni ma dov'è il motorino non posso dare perché non sono io la persona che poi state cercando come faccio a darvi poi alla fine l'hanno capito e se ne sono andati hanno salutato e se ne sono andati poi si è qualificato il messo comunale che doveva notificare delle cartelle sattoriali e logicamente logicamente Lucia ha spiegato che quella funzione giuridica non era lei per cui non si poteva né notificare né addebitare da lei quando lei si è qualificata come uomo vivo esatto io ho detto io sono donna viva voi non avete nessuna giurisdizione su di me non potete interagire con me poi tutti un po' si vedevano che erano arrabbiati va bene ok arrivederci e ci hanno salutato ok io sono un po' un po' un po' un po' un po' si ha salutato più si umanamente ok va bene è tutto da parte nostra è tutto volete aggiungere qualcosa è stata una cosa molto veloce è stato un flash e vedremo come si evolverà ma c'è da dire che io domani parto poi domani luce parte quindi non ci sarà a casa vado all'estero vado e sto via sei mesi quindi anche perché anche perché luce non è proprio una cittadina italiana ma non è cittadina proprio perché non è cittadina perché lei è scritta all'Aide per cui per cui in parte in parte in parte cioè risiede sei mesi all'estero e sei mesi in Italia per cui tecnicamente io penso che siccome domani va fuori il territorio italiano per cui diventa una cittadina estera neanche perché donna viva cittadina no 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 è una persona giuridica però non neanche no è una donna viva non 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 in terra estera va bene ci sono cose importanti no io penso che abbiamo detto tutto vero fate l'atto in presenza e chiudo la zoom ok un abbraccio allora l'atto in presenza lo facciamo con la zoom se avete anche registrato voi insomma riascoltate è un po' riassuntivo ok 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 va bene ok grazie grazie a voi ciao grazie 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 ragazzi grazie a voi